Un'esigenza della cittadinanza, dei residenti, questo ponte serve per far vivere più sicuri gli abitanti della zona qui di Pineto. Noi nel 2011 e nel 2013 abbiamo subito queste due grandi alluvioni e da quando mi sono insediato in provincia nel 2015 ho cercato di mettermi alla disposizione del comune, della cittadinanza per recepire questi fondi e risolvere definitivamente il problema di questo ponte che purtroppo aveva una capienza nell'alvio di 6 metri oggi la capienza dell'asta fluviale è di 20 metri, quindi diciamo che il deflusso sarà molto più tranquillo e leggero non tracimerà più come possiamo vedere nelle foto precedenti e quindi abbiamo dato una salvaguardia a questo quartiere che purtroppo ogni volta che arrivava l'alluvione soffriva di questa grande portata d'acqua. Oggi la riapertura significa intanto di dare un servizio perché si consente al territorio, soprattutto a questa zona di usufruire di una viabilità anche per le attività commerciali molto importante ma soprattutto di tranquillizzare davvero centinaia e centinaia di famiglie che non ne possono più non ne potevano più di trovare le proprie abitazioni allagate ogni volta che c'è stata una grande pioggia. Proprio qui sotto c'è il torrente Calvano che alcuni anni fa straripò causando gravi danni Monticelli oggi un'infrastruttura che viene inaugurata anche per rispondere ai mutamenti del clima. È vero che oggi il clima è cambiato ma credo che anche l'idea della urbanistica moderna sia cambiata. Oggi non permetteremo più di costruire vicino agli argini dei fiumi perché questo è inutile. Oggi con le bombe d'acqua che in mezz'ora riescono a fare la pioggia di un anno compromette sempre di più la situazione che proprio in questi giorni si sta verificando al nord. Non è una questione di Pinedo, di Borgo Santa Maria o di altre zone. Ormai è una scelta che bisogna fare coraggiosa nel campo dell'urbanistica e dell'ambiente che gli argini dei fiumi devono essere lasciati liberi. Oggi non è più possibile quindi bisogna ricorrere alle norme di salvaguardia che potrebbero essere queste infrastrutture che come ho detto prima grazie ai finanziamenti regionali e provinciali riusciamo a mantenere. Questo è un piccolo tassello perché nell'area di Pineto il rischio di disinutazione è alto anche in altre parti, in zona Villa Fumosa, Scherner, La Foggetta.